Ciao Milanisti, bentornati o benvenuti. Se ieri ero arrabbiato, oggi lo sono ancora di più perché ho avuto modo di confrontarmi, per così dire, con varie opinioni contrastanti su Pioli, soprattutto su Pioli e sul Milan. Ora, io rispetto tutti, rispetto le opinioni di tutti, ognuno ha le sue opinioni, ognuno è libero di pensare quello che vuole, di dire quello che vuole e di sostenere quello che vuole. Però ci sono alcune cose che sinceramente tengo a dire, anch'io, e che mi fanno pensare che chi sta criticando Stefano Pioli dopo la partita di ieri, lo faccia per partito preso e perché ormai ha deciso che quella deve essere la sua idea e quindi qualsiasi cosa succede è colpa di Stefano Pioli e va messo a rogo Pioli. Io vi invito a lasciare un mi piace a questo video, iscrivervi al canale, attivare la campanella e commentare. Poi ovviamente lasciate un mi piace se vi state d'accordo o se vi sarà piaciuto il video, iscrivetevi se lo ritarrete opportuno, attivate la campanella altrettanto, ma commentare avrete modo comunque di esprimere la vostra opinione, quindi vi invito a farlo. Allora, colpa di Pioli. Mi spiegate esattamente qual è la colpa di Stefano Pioli nella partita di ieri? Come ha giocato ieri il Milan? Ieri il Milan come ha giocato? Per un tempo, almeno per un tempo. Benissimo, eravamo tutti entusiasti? Prima della partita di ieri, quanti avrebbero messo la firma per pareggiare a Napoli? Quanti eravate convinti che il Napoli ci avrebbe massacrato? Quanti dopo dieci giornate dall'inizio del campionato, quando è uscito il calendario, eravate convinti che il Milan sarebbe stato indietrissimo in classifica, che Pioli sarebbe andato via e che quindi era tutto da rifare? Che sarebbe stato tutto da rifare dopo dieci giornate? Tutti. La maggior parte, l'80% di voi, l'80% dei milanisti era convinto che la decima giornata del campionato, dopo questo calendario, il Milan si sarebbe trovato in fondissimo indietro in classifica. E invece? E invece il Milan è terzo in classifica a meno tre dall'Inter. Terzo in classifica a meno tre dall'Inter e ha già giocato, dopo dieci partite con ventidue punti conquistati, ha già giocato contro Juventus, Inter, Napoli, Lazio e Roma. Cinque partite su dieci sono big match e il Milan è terzo a meno tre dalla prima in classifica, che ha giocato tra queste partite qui, quindi Napoli no, Juventus no, Lazio no, ha giocato soltanto Milan e Roma. E adesso avrà, nelle prossime quattro partite, Napoli, Juventus e Atalanta. Vediamo cosa succederà. Torniamo al discorso della partita di ieri. Come mai si critica Stefano Pioli? Ieri il Milan gioca una grande partita. Per 45 minuti domine, stradomine il Napoli e può fare cinque gol. E qualcuno mi dice, eh ma poi nel secondo tempo il Milan cala. Certo, il Milan non gioca il secondo tempo con la stessa intensità del primo tempo, non c'è dubbio. Però i gol che arrivano presi dal Milan sono errori individuali. Non c'entra nulla la scelta, non c'entra nulla Pioli, la tattica. Così come se Reinders a porta vuota manda alto, non è colpa di Pioli. Così come se Leao fa il pallonetto invece di mandare in porta Romero o Togernandez che arriva dall'altra parte. Non è colpa di Pioli. Se in area di rigore non riescono a segnare, non è colpa di Pioli. La dobbiamo smettere con questo discorso che è sempre e comunque colpa di Pioli. Io, che sono, e non ho problemi a dirlo, sono uno che Pioli lo difende e lo sta difendendo adesso. Ma quando c'è stato da criticare Pioli? L'ho fatto. Dopo il derby perso 5-1. Sono stato il primo, è andato a controllare, a dire che Pioli ci aveva fatto perdere quel derby con scelte scellerate e un atteggiamento sbagliato. Perché commetti sempre gli stessi errori. Ma dopo la partita di ieri, quali colpi possiamo dare a Pioli? Se il Milan ha parellato 2-2, una partita che doveva vincere 5-0 per occasioni create. Cioè, ieri il Milan, più di quello che ha fatto, non credo potesse fare. Poi c'è un altro tema, e l'abbiamo detto anche ieri, il tema degli infortuni. Che è un discorso però diverso. Io su questo, questo nessuno lo nega, perché l'altra colpa che si dà a Pioli, sono due. I cambi e gli infortuni. E adesso parliamo di entrambe. Gli infortuni. Il problema esiste, è reale ed è grave. Nessuno lo nega e sono il primo a dirlo. E invito, ripeto, come ho detto ieri, la società a ammettere, a far dire pubblicamente che c'è un problema infortuni. Perché negare l'evidenza è peggio. E non fa altro che aizzare la folla dei tifosi inferociti contro Pioli e contro la società. Ammettere un problema è il primo passo verso la soluzione. Poi si lavora per risolverlo, si capisce qual è il problema e si lavora per risolverlo. Negare l'evidenza pubblicamente non aiuta nessuno. È un problema grave che incide. Perché il Milan è la squadra con più infortuni. Non quest'anno, da anni ormai. E questi risultati, ieri il Milan la partita non la vince per colpa degli infortuni. Parliamoci chiaramente. Ieri il Milan la partita non la vince per colpa degli infortuni. Perché chi entra non è all'altezza dei titolari. Quindi è evidente che sta incidendo e bisogna ammettere il problema. Perché se no non si risolverà mai. Prima cosa. Seconda cosa, i cambi. Ora, sui cambi ci sono due temi che io voglio affrontare in maniera convinta e decisa. Il primo è, perché mette Romero al posto di Pulisic? Allora, qualcuno dice, doveva mettere Musa, stava vincendo 2-0. Poteva mettere Pobega a centrocampo con Musa a largo a destra. Vi ricordate Milan-Roma di gennaio? Il Milan vinceva 2-0. Partita dominata e lungo e largo. Dovevamo solo controllarla e gestirla. Pioli a 10 dalla fine, se non sbaglio, toglie Giroud, mette Gabbia. La partita finisce 2-2. Pioli si chiude troppo in difesa, si porta il problema in casa. Le critiche a fine partita quali sono? Mi hanno pareggiato due. Quali sono le critiche? Allenatore poco coraggioso, non ha avuto il coraggio di mettere un altro attaccante. Si è portato il problema in casa, si è chiuso dietro. Stavi dominando, dovevi ammazzare la partita. Perché non hai messo, non mi ricordo. Insomma, ognuno aveva la sua teoria. Alla fine la Roma ha pareggiato 2-2 con Pioli che aveva fatto il cambio difensivo. Ieri, se Pioli avesse fatto questa cosa, immaginate solo se vi fosse entrato Pobega, che poi è un giocatore amatissimo, mette Pobega e il Napoli pareggia comunque 2-2, io sento già comunque le critiche. Ovvero, allenatore senza coraggio, che si è portato il problema in casa, stavi dominando la partita, dovevi ammazzarla, dovevi chiuderla subito, invece hai messo un centrocampista e ti sei andato a chiudere, potevi mettere Romero. Non fai mai giocare i giovani e c'era la possibilità di farlo giocare Romero che eri sul 2-0. E le critiche ci sarebbero state comunque, perché ormai l'importante è criticare Pioli. Non è analizzare e dire, ma forse si avesse fatto così e poteva andare comunque allo stesso modo. Perché ieri Milan non è che perde perché il Napoli inizia a giocare questo grande calcio e Milan soffre. Ieri Milan perde per errori individuali di Magnani, Pellegrino, Teo Hernandez. E per quelli sottoporta dei giocatori offensivi. Questo è quello che è successo. Quindi i cambi, come si fa a criticare? Quelli a disposizione. Altro tema dei cambi. Entrano Jovic e Okafor al posto di Leao e Giroud a 10 minuti alla fine. Leao aveva fatto una brutta partita. Giroud era stanco morto, veniva da 90 minuti a Parigi, ragazzi. Cioè, capisco la frustrazione loro e poi ne parliamo anche di questo. Però è normale che debbano uscire. Le riserve di Giroud e Leao sono Jovic e Okafor. Se entrano loro e la reazione è la stessa di quando entravano Rebic e Origi, noi ci siamo detti per settimane che finalmente Milan ha una rosa a lunga. Se poi Pioli fa giocare le riserve e si apre di cielo perché dovevi tenere in campo sempre Leao e Giroud, ma allora di che parliamo? Che cosa abbiamo preso a fare Jovic e Okafor? O si rivaluta il mercato, oppure si dice che comunque Pioli ha fatto bene perché quelle sono le soluzioni di quello che devi mettere. Se Leao sta giocando male e se Giroud è stanco. Come si fa a criticare anche questo? Pellegrino, ne abbiamo parlato ampiamente ieri, non vorrei tornarci sopra. Detto questo, Giroud e Leao, le reazioni, ci hanno visto di tutto. A me è piaciuto. Sono contento che Giroud e Leao siano in quel modo. Come si fa a parlare di squadra che va contro l'allenatore? Una squadra che va contro l'allenatore non fa quel primo tempo. Il Milan entra in campo con la voglia di dominare e dimostrare. Come si fa a dire che la squadra è contro l'allenatore? Su quali basi? Perché Giroud dice che non sapevano si attaccare o difendere. Ma si parla di un aspetto psicologico, che ovviamente dopo il gol il Milan va un po' in confusione. Ma non c'entra nulla nel rapporto con Pioli. Poi perché nessuno invece sottolina le dichiarazioni di Giroud quando dice è il Compioli invece, la squadra è tutta Compioli e sarà sempre così. Perché fa comodo in questo momento, non fa comodo parlare di questo, ma fa comodo analizzare le pulci, ogni parola detta che può avere un doppio significato. Qua mi sembra che si cerca la scusa per dire che la squadra è contro Pioli. Non c'è nessuno contro Pioli, ragazzi. Perché poi sono gli stessi discorsi che si facevano a febbraio. Siamo dei tafazzi. I milanisti sono dei tafazzi. Non fanno altro che tafazzarsi. La dobbiamo smettere. Perché poi a febbraio dicevamo le stesse cose. Salvo poi a febbraio, marzo, aprile e maggio. Scusate, aprile e maggio, giugno e a settembre di quest'anno. Tutti quanti a dire, no, grande coach, grande mister, tutta la squadra con Pioli, quanto sono milanisti, quanto è milanista a Teo Hernandez dopo la partita col Torino. Anche di Teo Hernandez, peggiore in campo. Sta vivendo un momento di calo. Ma poi subito a dire, eh, ma Rema contro, vuole andare via. Lo scorso anno uguale, poi quando col Torino fa il gol da Scavetto, quanto è milanista Teo, quanto è forte Teo, quanto è bello Teo. Ragazzi, calmiamoci. Facciamo pace con il cervello. Ma la smettiamo di fare ogni momento critiche, 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 critiche. Altra cosa, 22 punti al Milan, ragazzi. 22 punti. 22 punti in 10 giornate. Io del calendario abbiamo parlato. Quindi, anche qui, calma. Stiamo un attimo calmi. È ottobre, non si può giudicare dopo 10 partite giocate. Cioè, alla fine del campionato, immaginiamo questo, il Milan vince lo scudetto. Immaginiamo, perché siamo alla decima giornata e siamo almeno 3 al primo posto, quindi può succedere. Se Milan vince lo scudetto, cosa succede? Che Pioli aveva ragione, Pioli torna a essere on fire, tutti amano Pioli, oppure quelli che adesso lo vogliono out, si nascondono poi. Cioè, nessuno dice che Pioli non debba essere in discussione, perché si può discutere. Ma a fine anno, non adesso, quando sei terzo in classifica, meno 3 al primo posto. Ne parliamo poi. O eventualmente quando sarà fuori da tutto, dalla lotta per il campionato. Ma non che... Poi, perché lo so io cosa succede, se Pioli vince il campionato, il merito sarà dei giocatori. Perché la squadra era troppo forte, era ovvio vincere il campionato con questi giocatori. Ma quando mai? Perché poi adesso sono gli stessi che... Il mercato, fino a settimana scorsa, era strabiliante, meraviglioso, perché l'aveva fatto la dirigenza. Adesso che i giocatori, magari, qualcuno si sta rendendo conto che non sono tutti fortissimi, e ma allora l'ha scelto Pioli e il mercato di Pioli. Qua ogni cosa è la scusa per attaccare Pioli. Qua ogni cosa è la scusa per attaccare Pioli. Dovete farvi un esame di coscienza, capire che quando c'è da criticare va criticato, quando non c'è da criticare non va criticato. Non è che siccome siete Pioli out per partito preso, allora qualsiasi cosa adesso è colpa di Pioli. Smettetela, perché siete ridicoli. Siete ridicoli. E non fate il bene della squadra. Non aiutate a migliorare le situazioni. Non c'è assolutamente nulla di positivo. E vi ripeto che sono convinto che da quella reazione di Giroud-Leao a caldo si tirerà qualcosa invece di molto positivo fuori. Perché questa squadra comunque è con l'allenatore, è sempre remato nella stessa direzione, e da queste situazioni trova energia per uscirne. Questo 2-2, ovviamente con altre dinamiche e altre situazioni, ma mi ricorda Milan-Spezia 2-1 perso in quel modo. Per la rabbia che ha generato, per la delusione che ha generato, perché non meritavamo di pareggiare. E se ieri Milan non meritava di pareggiare, io non capisco come si faccia a criticare Stefano Pioli. Vi ho risposto su infortuni, che ripeto, è un problema vero, reale, che ci sta portando difficoltà, perché se ieri ci fossero stati giocatori non infortunati, non sarebbe entrato Pellegrino, non sarebbe entrato Romero, e neanche saremmo qui a discutere dei cambi. Però è un problema che tra l'altro riguarda l'allenatore, perché ovviamente lo staff lo decide l'allenatore, e il modo di operare dello staff lo decidono insieme all'allenatore. che quindi ha la responsabilità di tutto lo staff. Ma non è un problema che riguarda la capacità dell'allenatore. Cioè l'allenatore, in quanto tale, io lo giudico per come gioca la squadra, per le tattiche che ha, e per tutte queste cose qui. Non per il problema infortuni. Il problema infortuni è un altro problema che, ripeto, riguarda l'allenatore, ma non c'entra col giudizio che si ha sull'allenatore, in quanto tale. Vi ho risposto su quello, vi ho risposto sui cambi, sia dal punto di vista del mercato, che dal punto di vista delle scelte, che potessero essere in un verso o nell'altro. Io veramente vi invito a dirmi nei commenti quali sono le altre colpe che ha Stefano Pioli dopo la partita di ieri. Pareggiato a 2-2 dal Milan, che poteva vincere 5-0. Lasciate un mi piace, sperando che vi sia piaciuto, iscrivetevi se non siete iscritti, attivate la campanella, e seguiteci su www.pianetamilano.it e su tutti i nostri profili social. Un saluto da parte Stefano Bressi, e appuntamento al prossimo video.